Siamo qui con il mister Filippo Prodosmo, promozione conquistata, promozione in tutti i sensi, campionato vinto 7 a 0, partita dominata. Sì, siamo contentissimi, poi per me che sono nato qui, l'ho vinto da giocatore, vincito da allenatore, è una soddisfazione grandissima. Poi i ragazzi sono stati fantastici, dalla prima all'ultima, non lo siamo meritato, dalla prima giornata che siamo primi, quindi non poteva spuggirci oggi. Grande partita anche dal punto di vista tattico, nessun'occasione concessa, questo è anche merito di soddisfazione. Molto, molto, i ragazzi mi hanno seguito dalla prima di campionato, mi hanno sempre seguito, hanno fatto sempre quello che chiedevo e non potevo chiedere. Grande Pippo! Grande soddisfazione, siamo contentissimi. Complimenti ancora. Grazie.